Un prestito di 600 euro, restituzione richiesta 3.600 euro e un crimine invisibile, quello dell'usura, agisce nei sotterranei della disperazione e di disperati. Ce ne sono molti perché il Covid ha reciso l'economia, anche quella legata alla pastorizia. Era un allevatore, la vittima dell'ultima operazione svolta a Isernia, finita con l'arresto dello strozzino che pretendeva interessi del 500%, ma una denuncia non libera tutti e in troppi sono ancora sotto lo schiaffo degli usurai. Ne è convinto il procuratore di Isernia, Fucci, il rischio è altissimo, commenta, e non è solo un affare della criminalità organizzata. Ci sono indagini in corso, campanelli dell'arme sunati inquirenti all'opera, lo spaccato a quello di un territorio che aveva già pagato prima del Covid per anni, un crollo economico pesantissimo e la pandemia ha dato l'ammazzata finale a chi era già esposto, mutui, affitti, merci da pagare anche senza aver potuto lavorare o lavorando a orari ridotti. I piccoli imprenditori ed esercenti sono la fascia che fanno meno rumore perché hanno paura, perché vivono minacce, ricatti, ritorsioni e chi li aiuta conosce bene questo meccanismo che stritola la vita. L'usura genera morte, riduce la vittima a una vera condizione di schiavitù. L'usura purtroppo coinvolge anche le famiglie e il più delle volte le distrugge, perché chi accetta di ricorrere all'usuraio accetta, a volte inconsapevolmente o perché disperato, di coinvolgere tutta la famiglia e molte volte i membri della stessa famiglia devono sottostare alle minacce degli usurai. C'è l'usura, ci sono le infiltrazioni mirate prevalentemente al lavaggio dei soldi sporchi e l'aggressione alle aziende in difficoltà da parte della criminalità organizzata. Un numero, fonte l'ultimo dossier di Libera fotografa la realtà dei primi nove mesi del 2020. È il periodo della prima fase del Covid, del 366% e l'aumento delle interdittive antimafie emesse dalle prefetture di Isernia e Campobasso. Sono le misure che bloccano le aziende che si sospetta essere controllate o condizionate dalle organizzazioni criminali. È il virus dell'illegalità che entra nel sistema economico del Paese.